Grazie, ciao, signore, ma chi me l'ha fatto fare, aiuto. Donatella e Tommaso sono avanti, oddio mio, però, carino, altino. Donna, Tommi, Donatella, guardate, mi vola il cellulare, va ammazza a tutti. Mamma mia, per tenere il cellulare mi sto uccidendo il polso con cui mi tengo appesa. Non finisce più, ah, qui è alto, oh mio Dio, mamma mia, ragazzi, sta spezzando il polso. In effetti, con tutte e due le mani appese, anziché fare il video, avrei sofferto meno. Siamo sulla cascata di Tures. Sono sul dirupo. Cioè, io do il consiglio di non fare i video durante questa discesa. Ecco mio figlio e Dona! Cioè, praticamente, se uno riprende con l'altra mano che serve a tenersi dritti, non ci si tiene dritti, ci si spezza il polso. Quindi, non è consigliabile fare quello che sto facendo io. Mio Dio! Aiuto! Ah! 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 Oh, signore! Qui è proprio brutto sto pezzo. Si va troppo, troppo vicini agli alberi. Mio Dio! Soprattutto col cellulare in mano. Veramente un'esperienza non molto gradita. Ah! 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 Mi aiuto! Arrivo distrutta! Ah! 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 Cosa? Chisica!